A che replica siamo? Con questa sera voi avrete fatto il LIR 227 volte. 227 volte e non ricordo la prima battuta. Ci siamo dimenticati anche qualche altra cosa, Sir. Che cosa? Dobbiamo scavarci le guance. Certo. Scavarci le guance. Hai trovata poi la farina? Non ancora però lo sto cercando. Comunque per la tournée ne abbiamo a sufficienza. E adesso mescoliamo la polvere bianca con un pochino di alcool di naturalezza. Basta, 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 non mi sto tolare l'erba. Non mi sto tolare, basta. Lo so, lo so, lo so, lo so. Lo so perfettamente come si appizzino una barra. È un paio di baffi, lo so, lo so. Sono 40 anni che faccio tutto da me, 40. Perché non lo sapevo come si fa, lo so perfettamente. Stai al tuo posto, non esagerare. Un attimo, dare la testa. Sono io. Ecco, la farina. Ci cae con la farina. Tu arrivi adesso, sono soltanto 15 anni. Sono 43 anni. E faccio tutto da me. 43. Ecco, la farina. Successi, trionfi, deliri. Anche il silenzio assoluto. Avrò bisogno di riposo dopo la tempesta. Non avete bisogno di dirmelo, lo so. Ah, va bene. A me lo scioglio a mano. Dammi la cura, non d'amica. Lasciola. Maledizione. Che corda. Si stacca, te lo dico io. Questa si stacca. Manca qualcosa, Norma. Che cosa manca? Non è che non voglio restare al mio posto, Sir, ma non sarà per caso la parrucca. Non per caso, manca la parrucca. Questa si stacca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.